Perché Linux Mint non usa KDE Plasma? La domanda mi viene posta sempre più di frequente da chi si sia avvicinato solo di recente a questo sistema operativo perfetto per un inesperto. Le ragioni sono state spiegate qualche anno fa nel blog ufficiale. Vediamole comprendendo anche meglio natura e obiettivi di Linux Mint. Vediamo poi se vale la pena installarlo comunque. Ciao da Dario di Alternativa Linux. KDE Plasma è uno dei tanti ambienti desktop, cioè dei programmi tramite cui interagire con un sistema operativo basato su Linux. L'ambiente desktop si sovrappone al resto del sistema operativo, permettendo l'interazione tramite finestra e menu, piuttosto che da una finestra di terminale e la riga di comando. Il team KDE, responsabile dello sviluppo di tante utilissime applicazioni dotate di interfaccia grafica, ha nel suo desktop chiamato Plasma il progetto forse più sostanzioso. È l'aspetto che viene adottato in primo luogo da Kubuntu e da tantissime altre distribuzioni tra cui MX Linux, Manjaro, Endeavor OS o anche KDE Neon che viene dal medesimo team. L'impegno di KDE su Plasma lo rende uno dei più articolati e personalizzabili ambienti che ricalcano la cosiddetta metafora desktop, ovvero l'interpretazione di Windows. Un menu di dimensioni limitate, che si apre da un pulsante sul lato inferiore sinistro, pulsanti per ridimensionamento e chiusura di finestre posizionati sul lato destro, menu dei singoli programmi integrati nella finestra principale, ecc. Diversi utenti che mi scrivono nel blog o a margine di video su YouTube si chiedono perché Linux Mint non si decida ad integrare tra le sue edizioni una con il desktop Plasma. Ma purtroppo l'ordine delle cose è inverso. Linux Mint ha previsto per anni una edizione KDE, ma l'ultima è stata Linux Mint 18.3 Silvia che ha concluso il suo ciclo di vita nel 2021. Perché Linux Mint non usa più KDE Plasma, quindi? Le ragioni di questa scelta dolorosa ma un po' obbligata le troviamo in uno dei consueti post del responsabile del progetto Linux Mint che risale all'ottobre 2017. KDE è un ambiente fantastico, ma anche un mondo differente, uno che evolve allontanandosi da noi e da qualunque obiettivo ci poniamo. Le loro applicazioni, il loro ecosistema ed il toolkit QTE, che sono centrali per loro, hanno davvero poco in comune con ciò su cui stiamo lavorando. Clem entra in un dettaglio tecnico che ha già la spiegazione di questa rottura. Al principiante e in particolare all'utente di Linux Mint che semplicemente non vuole rogne e che il PC funzioni per anni spesso non importa. Ma la differenza sostanziale tra gli ambienti desktop MATE, XFCE e specialmente quello Cinnamon rispetto a Plasma di KDE è una sostanziosa base di pacchetti software assai differenti su cui essi si basano. Si tratta delle cosiddette librerie GTK per Linux Mint e delle librerie Qt che sono la base dell'ambiente KDE e anche di LX Qt. Clem prosegue. Non ci limitiamo a rilasciare versioni e a distribuire software realizzato da altri. Siamo una distribuzione prodotto e ci vediamo come sistema operativo desktop completo. Apprezziamo integrare soluzioni, sviluppare ciò che manca, adattare cosa non calza perfettamente. E abbiamo grande cura di questi aspetti non solo per il nostro ambiente desktop Cinnamon, ma li adottiamo anche in ambienti simili come MATE e XFCE. Il POST indica alcune delle applicazioni più tipiche caratterizzanti Linux Mint che per le ragioni tecniche indicate non potrebbero essere compatibili e quindi rilasciate in una versione KDE. Diciamo però che l'incompatibilità tra KDE Plasma e Linux Mint non è totalmente insanabile, casomai poco coscienziosa, specie se si cercano stabilità e affidabilità. Risulta quindi forse sconveniente per non stravolgere la natura di Linux Mint. Traduco ancora. Gli utenti dell'edizione KDE rappresentano una parte della nostra base di utenti. Vengo a sapere dai loro riscontri che la apprezzano notevolmente. Questi utenti saranno ancora in grado di installare KDE sopra Linux Mint e sono sicurissimo che il PPA di Kubuntu rimarrà ancora disponibile. Lefevre già ci indica una strada per integrare KDE in Linux Mint, ma la vediamo più avanti perché non è l'unica. Piuttosto proseguiamo la lettura. Gli utenti di Linux Mint KDE potranno anche installare il software di Mint su Kubuntu o potrebbero voler rinunciare ad un po' di stabilità per spostarsi su una distribuzione con le novità di grido come Archie, per seguire gli aggiornamenti di KDE più da vicino. Insomma, qui viene fuori la differente natura Debian, proverbialmente lenta e cauta di Linux Mint, in opposizione a quella frenetica e velocissima di KDE e delle distribuzioni cosiddette rolling, come Archie, dove tutto è in corso di perenne testa e viene immesso rapidamente nel circuito degli aggiornamenti, salvo poi risolvere i problemi che si manifestino. La missione di Linux Mint sono chiarissime in proposito le parole di chiusura con cui la scelta di abbandonare l'edizione KDE di Linux Mint viene annunciata. La nostra specifica missione non è quella di diversificare tutto il possibile nel tentativo di conquistare una fetta più grossa del mercato Linux, ed è con un po' di tristezza che lasceremo questa edizione. Ci concentriamo sulle cose che facciamo bene e ci appassiona diventare sempre più bravi nel farle sempre meglio. KDE è fantastico, ma non è qualcosa su cui vogliamo focalizzare ancora la nostra attenzione. Ebbene, io non posso prevedere il tuo giudizio su queste idee, ma come le febbre spero possano aiutarti meglio a comprendere se Linux Mint sia o meno il sistema operativo che fa per te o se siano meglio Mangiaro, Endeavor OS o proprio Archie. Di certo non potrai essere totalmente nuovo di Linux se vorrai abbracciare le ultimissime novità in fatto di programmi e di supporto per l'hardware più recente con una di queste distro. Forse meglio con alcune delle tante altre, molto valide, che sono rilasciate con KDE Plasma. Le trovi proprio nel sito web di KDE a proposito di distribuzioni. Ciò premesso io ti sconsiglio vivamente di adottare Linux Mint come sistema operativo se il tuo ambiente desktop preferito è KDE Plasma e dal punto di vista opposto di non installare il desktop Plasma in Linux Mint. L'ho spiegato anche in Installare differenti ambienti desktop in Linux. L'installazione aggiunge una marea di file nel sistema operativo, appesantendolo molto. Con la versione completa del pacchetto Kubuntu Desktop inseriresti diverse app di KDE come il file manager Dolphin, lo store discover, il terminale, l'editor di testo ed altre mescolandole con quelle previste da Linux Mint, causando conflitti di ogni genere. Che siano Cinnamon, Mateo, XFC e la base di installazione. Installa KDE in Linux Mint per scoprirli e per imparare cos'è un DM, ma non se chiedi affidabilità dal computer in cui le provi. Se non vuoi una distro rolling hai ancora la possibilità di scegliere Kubuntu o KDE Neon tra le più facili o una delle altre suggerite dal team KDE. Oppure perché no, metti alla prova SolidK, sistema operativo basato su LMDE, la versione pura Debian di Linux Mint, allo scopo di fornire a queste edizioni l'ambiente grafico KDE con SolidK e l'ambiente XFCE con SolidX. Ciò premesso, se vuoi installare KDE Plasma in Linux Mint o in LMDE, fallo almeno con la versione minima, il cosiddetto metapacchetto Plasma Desktop, perché almeno eviterai di installare tanti programmi KDE in conflitto con quelli di sistema. Tale pacchetto, cercato nel gestore applicazioni in LMDE 6, installa già G Plasma 5.27.5, in Linux Mint 21.2 la versione 5.24. In fase di installazione dovrai anche selezionare un DM, Display Manager, predefinito. Linux Mint usa da sempre Lite-DM di Canonical, ma SD-DM è specifico per il desktop Plasma e realizzato da KDE. Siccome il primo è compatibile sia con le librerie GTK di Mint che con le Cutie di Plasma è la scelta migliore. Meglio sarebbe, come indicato, modificare le impostazioni in modo che le sessioni Cinnamon usino Lite-DM e quelle KDE-SD-DM. Se vuoi una versione più recente di KDE Plasma in una delle edizioni su base Ubuntu di Linux Mint, la ottieni abilitando i PPA e i Backports di Ubuntu con questo comando. Poi lo installi con sudo apt-update, sudo apt-install Plasma Desktop. Al momento dei miei test ottengo il Linux Mint 21.2 XFCE e la versione 5.27.9 di KDE Plasma. È evidente che la natura LTS di Linux Mint, l'assenza del kernel HWE e altri aspetti ne fanno una distro molto cauta sulle novità. Anche nelle edizioni su base Ubuntu emerge la sua natura di derivata Debian ed è certamente incompatibile con la disponibilità delle ultime novità che il team KDE apporta al suo desktop e a diverse delle sue applicazioni. Tu cosa ne pensi? Apprezzi il desktop KDE Plasma? Lo usi in Kubuntu o MX Linux che lo forniscono preimpostato? Oppure ne conosci gli ultimi sviluppi grazie a Mangiaro o al nuovo corso di Endeavor OS che adesso lo prevede come principale? Fallo sapere a me e agli altri spettatori con un commento. E comunque viva la libertà di scelta e l'abbondanza di possibilità che ci offrono Linux, l'open source e il software libero. A presto.